è bello vedere miracoli che avvengono perché uno si è fatto tutto questo ponte in contromano perché come diceva l'amico mio la madre dei coglioni è sempre incinta no no mi è andato grazie a te no perché ridi non capisco perché stai ridendo ma potendo optare tra un italico e un baruder sciarpato giallorosso ho optato comunque per l'italico oggi il mio italico guida oggi il mio prodotto italico ce l'ho alla guida abbiamo anche una 1 bidet a qualcuno piace molto la 1 bidet la gradirebbe bidet giallopizio verdino secrezione di bile di tutti i colori la 1 la patente l'abbiamo presa che so oggi abbiamo lasciato l'italico con il baruder si entra in centro il mio italico ce l'ho comunque alla guida il mio gioiellino italico il medium fa il giusto va in giro versaldi perché potendo sparagnare desti tempi se sparagna e secondo te sto male con questa se sparagna mai nell'ambito delle certezze ce n'è una con questa se sparagna mai viva la vita tutta la vita bella per te vai piano che stai un po' eccedendo a 38 all'ora bella 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 bella